Finalmente è tempo di Carnevale senza frontiere! Domenica 2 marzo, al nuovo Teatro Cari Sport di Cesena, torna l'appuntamento più divertente della città! A partire dalle 15, grandi spettacoli e animazioni per un intero pomeriggio di festa organizzato dall'Associazione L'Aquillone di Iqbal in collaborazione con Romagna Iniziative. Sul palco musica, danze e sketch di clownerie a cura dei clown dottori del progetto I Nasi Rossi, del Dottor Giumba e l'uomo palloncino, vincitore del Guinness dei Primati. Il Carnevale di Cesena è di nuovo senza frontiere! Non mancare proprio tu! Perché divertirsi non è mai stato così solidale! Il ricavato della manifestazione andrà a sostenere i progetti dell'Associazione L'Aquillone di Iqbal.